buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video siamo qua siamo qua poco prima di pianeretto partiamo da un altitudine di 1170 metri per arrivare al rifugio fontana mura 1726 metri sopra il livello del mare è il 2 di giugno del 2019 ecco una piccola processionaria bisogna sempre stare attenti a questi animali grazie primo chilometro passeggiata abbastanza tranquilla non troppo difficile adesso quest'ultimo pezzettino tirava un pochettino ma perché secondo me il livello dei chilometri è lunga solo che è per quello che sale po c'è poco parla l'esperto poco di sliverlo mi ha incontrato un nostro amichetto qua quella che è una libere no perché è piccola e tu chi sei la testa non è triangolare ciao e questa punta qua è la punta dell'aquila ciao buongiorno buongiorno working rock siamo arrivati a 1.600 manca pochissimo lassù in cima e vediamo un altro rifugio adesso stiamo arrivando al rifugio fontanamura per mangiare prendere un po il sole cambiarci la maglietta eccolo la il nostro rifugio stiamo arrivando manca poco uno spettacolo incredibile bellissimo mi 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 Dopo una lunga pausa pranzo, ripartiamo, scendiamo verso la macchina, ci aspetta un'altra ora e mezza di camminata, però per fortuna abbiamo bevuto la birra, quindi siamo a posto. Benvenuti in questo contatto di Linea Verde, qua in questo Alpeggio e vendono formaggi. No, 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 ma lì dipende mira comunque, Ok, io c'è il gruppo e ma ci usiamo. No, io fai desto e prima. Belli, ciao! Prego! Scusa, ripeti io? Gnafo! Siamo quasi giunti alla fine di questo sentiero, sono quasi alla macchina. La camminata è molto bella, è abbastanza facile anche se è un po' lunga perché più o meno tra andate e ritorno sono 12 km. Prima del rifugio si incontra anche un alpeggio dove noi abbiamo comprato il formaggio, dove avete visto gli animali. Per raggiungere il sentiero bisogna prendere la strada per Coazze, si supera Coazze seguendo per Pianneretto. E poco prima di Pianneretto sulla sinistra c'è questo sentiero. Pianneretto sullo. Per raggiungere il sentiero. Pianneretto sullo. Pianneretto sullo. Per raggiungere il sentiero e la cantina è un po' lungo. Finalmente siamo arrivati alla macchina, finisce qui quest'altra giornata Il sentiero 414 Ciao Ne Ciao, al prossimo video Ciao Al prossimo viaggio